Maurito, Maurito, va via, il tiro, il gol di Maurito! Maurito cosa hai fatto? Maurito cosa hai fatto? Maurito mio, bello mio, di casa, cosa hai fatto Mauri? Hai tirato da sotto, cazzo, l'incrocio dei pari, Toni voleva come un'aguila, ma la nostra aguila ancora più in alto è andata, il gran gol di Sarada che ha colpito l'incrocio dei pari, incredibile, ma vero, un gol da molta scelta, ragazzi! Grazie a tutti, grazie a tutti! 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 Grazie a tutti